Conad presenta Il Buono del Paese. Per cenare da Marta, fanno la fila. Perché a casa sua trovano il gusto delle specialità regionali. La sua pasta al pesto e come la faceva la nonna, quella di Genova. E alle serate gourmet, solo i sapori del territorio. Per gli ospiti sceglie il meglio della tradizione italiana. Il Buono del Paese Conad. Scopri le offerte in negozio e i vantaggi su spesa online.conad.it Grazie a tutti.